Due cani a Hong Kong hanno dato positività, dobbiamo distinguere, una cosa è la contaminazione e una cosa è l'infezione. Gli animali erano stati contaminati dal loro proprietario, ma non erano in grado di infettare, quindi di trasmettere il virus. In tutti e due i casi noi abbiamo trovato, il mondo scientifico lì ha fatto tamponi e ha trovato tracce del coronavirus sul primo animale, che era un volpino di Pomerania, che poi è morto per altre cause, non per il coronavirus e comunque non lo possiamo dire per certo perché il proprietario non ha consentito l'autopsia. In entrambi i casi i cani non hanno trasferito il coronavirus, non hanno infettato nessuno, sono stati contaminati dalla presenza del coronavirus che era dovuta al positivo, cioè al proprietario che aveva la malattia. Questa condizione è chiara, l'animale non trasmette la malattia perché hanno tutte le specie animali, i suini, i polli, i cani, i gatti, i loro coronavirus, ma sono specie specifici, cioè praticamente ogni genere animale ha la sua famiglia di coronavirus che non si trasferisce tra una specie e l'altra. Certo che questa mutagenesi potrebbe dare luogo anche a dei fenomeni che però noi teniamo sotto controllo. Al momento, lo dico con chiarezza, è molto più pericoloso stringere la mano ad una persona che accarezzare un cane. Ecco, però in qualche modo, dottor Limone, la cosa che si è detto fino ad oggi, cioè che il virus non si trasmette tra specie diverse, nel momento in cui l'essere umano può trasmetterlo all'animale, beh, questa cosa in qualche modo si realizza. Lo può contaminare e non infettare. Il punto vero è che l'uomo lo può contaminare l'animale, ma l'animale non è poi infetto, è contaminato, quindi non è in condizione di trasferire la malattia. Questa è la differenza fondamentale. Bene, grazie. È come se finisse su una superficie. C'è lì, lo porti nell'ambiente come ce l'ha addosso il cane, ma che poi da lì diventi infettante è un altro paio di maniche. È come per gli alimenti. Gli alimenti non portano l'infezione. Mangiare non significa assumere il virus. Quello che è pericoloso di questa malattia sono i droplet, cioè gli sternuti, colpi di tosse da un'altra persona. Toccare una mano che ha avuto invece una contaminazione, quello è un rischio serio. E questo è il vero rischio da scongiurare.